Cari colleghi e cari colleghi, ben trovati. Affrontiamo oggi un argomento assolutamente pregnante e di impatto imminente, ossia il decreto legge sostegni bis, non che sia stato ancora pubblicato bensi badi, ma sicuramente le prime bozze hanno avuto modo di essere poste in circolazione. Ebbene, devo dire che la lettura di queste prime bozze del decreto non può far altro che generare e indurre lo sconforto in tutti noi. A parte le solite previsioni di crediti d'imposta che hanno ad oggetto o avranno ad oggetto, se le indiscrezioni saranno confermate, i canoni di locazione con amplificazione doverosa anche ai lavoratori autonomi oltre che alle imprese, e questa è sicuramente una notizia di interesse e sicuramente positiva. Vi è la previsione anche evidentemente di una abrogazione di imu, di rate imu per determinate tipologie di esercenti, determinate attività. Anche questo è assolutamente doveroso perché è quello più incise dalle conseguenze pandemiche. Ma poi entriamo in una situazione dove il nostro intervento purtroppo richiederà necessariamente una situazione e delle particolari attenzioni che in un periodo quale quello dichiarativo non possono veramente che generare nervosismo. Mi riferisco al nuovo fondo perduto, al nuova contribuzione a fondo perduto. Passi per la condizione di ribaltamento delle stesse cifre, degli stessi importi previsti dal primo decreto sostegni, del tutto risibili dal punto di vista economico. Passi, ripeto. Ma, e qui arriva la notizia sconfortante, vi è un passaggio di incrementale, vi è un passaggio della norma dove viene a essere detto non preoccupatevi, li avete trovati insufficienti? Ci siamo noi, ovvero ci sono i vostri commercialisti. Perché? Perché nella rideterminazione, oltre alla quantificazione base paritetica, ripeto, a quella precedentemente assegnata, vi è la previsione di una potenzialità di incremento, udite udite però, riservata a coloro che hanno avuto una riduzione del fatturato. E voi mi direte, ma dove sta la differenza? No? Sono i periodi presi a base per il calcolo del delta negativo. Ovvero, bisognerà fare riferimento al periodo aprile-marzo 2020, quindi è aprile 2019-marzo 2020, confrontato con la situazione omologa aprile 2020, 31 marzo 2021. Quindi con un problema evidente di conteggi, di spacchettatura di annualità IVA, con le problematiche della ricomprensione ai sensi delle circolari 15 e 22, di quelli che sono i fatturati del periodo. Insomma, non sarebbe stato banalmente più utile e assolutamente condivisibile aumentare la percentuale di appannaggio, anziché aumentare il nostro nervosismo e la nostra necessità di intervento, oltre che acuire la nostra evidente ormai intolleranza a queste norme. Cercheremo di rispondere in una prossima occasione. Per oggi ci atteniamo al politicamente corretto. Buona giornata e per quanto possibile, buon lavoro.